Come tutte le volte precedenti che non sono un tecnico, però vado un po' agli appunti che ho preso e a quello che è l'ingegner Codestali. Lui ha suddiviso il problema in due parti, la prima la parte statica e l'altra la parte sismica. Di quello che voi avete detto vado subito al punto che è un pochettino una questione un po' più delicata. Quindi ho detto che se io avessi ricevuto i dati del 7 e dell'8, cioè degli 8 raccogliettori di registratori, chiamiamoli così, almeno ci capiamo ne, dello spostamento della velocità di vibrazione dell'onda su questo edificio, quei due io avrei scommesso molto probabilmente che trovandomi in quel luogo avrei avuto sotto agli occhi degli stati fessurativi. Quindi avrebbe fatto capire che in 5, 10, 15, 20, 30 anni successivi, se quel superamento dei 5 mm per seconda della velocità con cui l'onda si propaga sarebbe stato pericoloso. E lui ha detto, la cosa incredibile è che questo non ci sia. E questo è spiegato da che cosa? Ho detto che erano corpi? No, 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 è spiegato da un'altra cosa. Lui ha analizzato 9355 minuti dentro questa scuola con i computer collegati a remoto. Ha raccolto tutte le informazioni su quei 9355 minuti durante il giorno. E questa è la spiegazione che vi ho dato, poi magari vi ho fatto un marco, è un po' più tecnico. È stato il fatto che quel picco veniva superato pochissime volte durante il giorno per uno spazio di tempo che era 0,2 secondi. Da mezzogiorno e mezzo alle due e mezzo. Cioè per due e mezzo, sarebbe per due millesimi distinto. Perché era il punto di massima concentrazione di tutti i bambini che eravano in mezzo. Considerate il fatto che il punto di massima concentrazione dei bambini è in un punto dove ci sono stati più interventi, quindi travi, queste cose qua. Quindi in un minuto il picco usciva fuori da quei 5 millesimi di secondo che non è, e lui ha detto anche questo, che non è scritto nella norma. E' una sua constatazione, ha preso quel rilievo lì, neanche dal punto di vista della, diciamo così, come possiamo chiamarla, della normativa italiana. Ma siccome lui ha lavorato anche fuori, si è confrontato anche con altre realtà fuori, e lui ha fatto una, diciamo così, una linea dei 5 millesimi per secondo. Tanto che ha detto un'altra cosa, che forse è quella ancora più importante, che la soglia dei picchi, chiamiamoli così, se fossero stati tutti regolari sotto la soglia dei 5 millesimi per secondo, ma fossero stati invece che essere praticamente nulli, perché nel grafico si vede una nullità costante nel tempo, poi ogni tanto dei picchi che superano i 5 millesimi di secondo. Se invece di essere a soglia 0, fosse stato a soglia 4 e mezzo, continuativa per tutti i minuti, di tutte le ore che i bambini erano a scuola, sarebbe stato, ha detto, di gran lunga più preoccupato. Lui ha voluto dire un'altra cosa, che c'è un momento in cui si sopra questa soglia, questo momento è piccolo rispetto al tempo in cui c'è il momento di criticità, da mezzogiorno alle 2 alle 2 e mezza, ma lui sarebbe stato più preoccupato, benché avrebbe potuto dire se così fosse stato. La soglia non la supera mai, ma da ingegnere detto sarebbe stato molto più preoccupato se quella soglia invece di essere allo 0, scusatemi, ma per far capire, con dei picchi di questo tipo fosse stata a 2 e mezzo, 3, continuativa nel tempo, senza fuoriuscire da quella soglia. Questo cosa significa? Significa che, lui ha detto, dal punto di vista statico, scusa, chi è che ha detto delle solette inesistenti? Lui ha detto, dal punto di vista statico, questa parte qui vibra di più, ha detto, a diversità, dalla parte dove c'è la palestra, perché essendo la palestra con una luce più grande e non essendoci pilastri, la soletta era stata fatta all'epoca con un pensiero di più rinforzo. Quindi lui ha detto che questa parte è così, non perché non c'è la soletta, ha detto che la soletta praticamente inesistente, lui deve chiudere questa relazione, ricordo che ci siamo detti qui due cose, che ovviamente, non è che se domani ci mettessimo anche noi tutti, tutti di buona volontà, non sapremmo che genere di intervento fare, che dove farlo, con che tipo di materiale, è un ingegnere e anche un curriculum, lungo di qua, là giù in fondo, quindi stabilirà lui, quali sono gli interventi da fare, tanto che qui ho detto, tutti me l'avete chiesto, sarebbe bene per la fiducia che abbiamo in lui, Stefano stesso dice, sono molto contento perché tutte le volte ho rotto le scatole, e sembra che tu l'abbia fatto costantemente anche con altri, anche con altri, è una battuta, anche con altri ha risposto, è sempre stato, normalmente insomma, per il rilievo che anche quell'uomo lì, probabilmente una volta, due volte, tre volte, quattro volte, magari la quinta volta può dire anche c'è dell'altro, se è reso disponibile, ha voluto fare gli incontri con voi, prima, mentre, e adesso alla fine, penso che dovrà fare un altro, con una relazione complessiva, con una relazione complessiva, e qua dentro, qua, per la fiducia che voi avete espresso, ma che non foste tutti qui, ma immagino che sia collettivo a questo punto, la fiducia per lui, che era lo spirito per il quale abbiamo detto, andiamo in quella direzione, perché se avessimo, parliamoci chiaro, se avessimo messo, quando Marzia che ha fatto prima quella battuta, magari un tecnico del comune, la fiducia non c'era proprio tutta, abbiamo scelto una persona fuori, che ha alto prestigio, e che ha tutte le sue collaborazioni varie. Anche perché sapevate che aveva gli occhi addosso, comunque, no? No, ma perché comunque io per primo mi fido più di una persona che è professionalmente a quel rilievo. ci siamo detti, e ho chiesto al dottor Peluso, io ho detto, ma se la norma ce lo consente, perché non sono neanche esperto di norma amministrativa, potremmo fare cosa che non abbiamo ancora fatto per correttezza, perché la correttezza, non ve lo sto a ripetare, ce lo siamo detti mille volte dal primo incontro che abbiamo fatto qui, l'abbiamo ottenuta fino ad oggi, la tenevamo ancora dopo e ancora dopo domani, abbiamo detto, non gli diamo l'ingarico subito, prima gli facciamo esprimere tutto il lavoro che deve esprimere, e successivamente consegniamo l'incarico di redazione del progetto di intervento, chiamiamolo così, per cui da questo punto di vista, d'accordo noi tutti, d'accordo voi, se niente in contrario prevede la norma, niente in contrario, ma mi sembra che la volontà non sia contrario dell'ingegnere, ovviamente chiuderà una fase in cui dirà tutte le cose che deve dire, dirà quali sono le progettazioni di intervento e ci siamo anche detti, lo facciamo di corsa perché giugno, luglio, se sembra, ma abbiamo buone certezze, buone speranze che sia così, apre una richiesta di finanziamento proprio su questo argomento. Grazie.